Pani sulla testa, fallo! Scansiona lì! È pulita! Pulita! È una positiva! No! Non sono infetta! Vieni la giro! No, la scansione sbagliata! Mi prego! Guarda avanti! Ok, attenta! Porca troia! Senti, consideratevi fortunati. È questo che accade a chi si nasconde in un edificio condannato. Chiamiamo la squadra di pulizia. Qui abbiamo finito. Servono due borse, più altre due per la scatola. Ok, gente, non c'è niente da vedere. Non fermatevi. Sì, signore. Non ci muoviamo. Parecchi ci siano sempre più infettati. Questo significa che la gente può uscire. Dov'è, Mark? Lo sai, l'hanno preso mentre usava delle scade razioni falsi. Questa scuola cosa ne hanno fatto. Tu che dici. L'ho testato a sangue, l'hanno fatti affetto. Ho recuperato dei nuovi documenti. Non avremo problemi. Il controllo qui succederà... Basta restare calmo. Bene, proseguite pure. Siamo d'accordo. Siamo d'accordo. Cosa fate? Un giorno libero. Visita un uomo. Bene, passate pure. Grazie. Chiudete! Luci! Roel, forza la scuola da qui. Roel, andiamo, dai! Attenzione. I civili devono liberare l'area circostante immediatamente. Attenzione. Il punto di controllo 5 è chiuso fino a nuova comunicazione. Tutti i civili devono liberare l'area circostante immediatamente. Antisaluti alla strada facile. Ricuciti, ok? Stai da qui. Tannen. Non ci sia possibile. Ci vediamo tutti i punti di controllo. Dovremmo passare da fuori. Andare oltre il muro. Oppure potremmo lasciare un garamato Come no Ehi Tess, vedi quella roba? Ero lì Com'è il tunnel a est? Libero Vengo da lì, nessuna pattuglia Ehi, dove vai? A trovare Robert Anche tu? Qualcun altro lo cerca? Marlene, chiedeva di lui in giro, lo cercava Marlene? Cosa vogliono le luci da Robert? Pensi che me l'abbia detto? Beh, tu cosa ne hai detto? La verità, non ho idea di dove si nasconda Bravo ragazzo, stai lontano dai guai Presto arriverà l'esercito in forza Ok, ci vediamo Marlene sta cercando Robert Che sento? Non mi piace Sarà meglio che lo troviamo prima delle luci Eccoci qua Ehi ragazzi, come va? Là fuori va sempre peggio Qui come siamo messi? Tutto tranquillo Nessuna traccia di soldati o infetti Quello che volevo sentire Joel, aiutami qui Attenzione là fuori Ah, Cristo, questo posto puzza Devono fare attenzione a cosa buttano qua sotto E lui c'è Andiamo da qui Andiamo da qui I nostri zaini sono rimasti qui Le munizioni in scarsetto Beh, usiamole bene Bene, Texas Solleva me Spingi mi Grazie a tutti Sei pronta? Sì, signora Sì, signora Dai Sì, signora Fa attenzione Come sempre È una domanda trabocchetto? Era da un po' che non venivo qui Sembra un appuntamento Beh, sono un tipo romantico Già, a modo tuo Dov'è la scala? Dov'è la scala? Dove essere qui in zona Trovata Portala qui Prima la signora Prima la signora Signora Mi confondi con un'altra persona? Si fa per dire Si fa per dire Di qua Giù, di qua Robert Robert avrà ancora le vostre armi Sarà meglio per lui Che le abbia Una volta ripresa la mercanzia Sarà facile da scaricare A proposito Quando arriva il prossimo carico? Beh, incontreremo Billy Il mese prossimo E si spera Avremo altre pillole e munizioni Si, arriva sempre con qualcosa Dovrebbe tenerci occupati per un po' Fermo Spore Ma dove diavolo arrivano? L'ultima volta questo posto era vuoto Vengono da qualche parte Fa attenzione Ecco il colpevole Il corpo non è qui da molto Meglio tenere occhi e orecchie aperti Dovremmo passare da qui Tutto ok? Si Il soffitto sta cadendo a pezzi Attenzione Da questa parte Piano Cristo Occhio, occhio Aiuto Ho la maschera rotta Non Non lasciate che mi trasformi Vi prego Che vuoi fare? Andiamo A Grazie. Grazie. S-shh. S-shh! S-shh-shh! S-S-sit! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.